Il ruolo della poesia oggi nella nostra società, qual è la sua funzione? Abbiamo visto in questa serata che le funzioni possono essere tante, un momento di sfogo, la possibilità di raccontare quello che magari nella quotidianità non si riesce a raccontare, il conoscere meglio se stessi, la possibilità magari di avvicinare qualcun altro, o come scherzosamente diceva Pino Insegno, magari anche per abbordare una ragazza, così raccontava dei suoi ricordi di infanzia. Io credo che la poesia abbia sicuramente una funzione, che è quella di farci ricordare che siamo persone, che la vita è bella da vivere comunque anche quando ci sono momenti difficili e anche quando ci sono situazioni difficili, peggio ancora, disgrazie o momenti drammatici. E si cerca attraverso la poesia di riscattare o di vedere o di aspettarsi che qualcosa migliori o cambi, anche soltanto raccontarlo e condividendolo con altri, perché come tutte le cose che hanno a che fare con l'arte esistono solo se qualcuno le può condividere, altrimenti rimangono fini a se stesse. E il premio a questi poeti, che poi vediamo sono persone che vivono la loro vita di tutti i giorni, con i loro problemi, le loro angosce, le loro soddisfazioni, le loro gioie, ma che in questa sintesi che gli dà la poesia trovano magari il momento più bello da ricordare. E il suo poeta del cuore qual è? Ma io ricordo sempre e non a caso mi è fatto piacere che è stato inserito nel momento di presentazione del premio a laurento Giuseppe Ungaretti, non solo perché l'ho letto e l'ho anche apprezzato quando ero anch'io nella fase della poesia, ma soprattutto perché ancora oggi più che altri poeti grandissimi come Montale, che è stato citato anche oggi, dalla presenza di un'altra grandissima poetessa, che è la nostra nome tutelare del premio, ma sostanzialmente lo ricordo perché nella sintesi, nella profondità di quel, per esempio, mi illumino d'immenso che tutti ricordiamo, perché a scuola giustamente viene studiato e viene sempre ricordato, c'è quella grandissima profondità che la parola e la sintesi che la parola della poesia sa dare, quel mistero di cui si è parlato anche nei nostri interventi, quel mistero credo che sia effettivamente lui, per me, la persona che l'ha saputo meglio rappresentare.